Papaya. La papaya è un frutto esotico. Per la forma può essere scambiata per esempio con l'avocado, ma il sapore è una via di mezzo tra l'albicocca e il melone, ben diversa dall'avocado. Quando acquistate la papaya dovete fare molta attenzione che il frutto sia giunto a perfetta maturazione, altrimenti risulta aspro e vi allappa le gengive. La buccia deve essere quindi di colore giallo-oro, profumata, leggermente cedevole al tatto e poi come sempre mettete in atto il vostro olfatto. Dovete sentire l'odore di papaya.